Dalla via Francigena alla Romea, passando per la via degli Dei e la piccola Cassia, sono 14 i cammini dei pellegrini in Emilia-Romagna, che grazie alla sua posizione strategica detiene il primato nazionale. La regione, insieme ad ATP Servizi, ha avviato dal 2016 un tavolo con la conferenza episcopale e tutte le associazioni del territorio per mettere a sistema tutte le eccellenze sulla via dei viandanti, che oggi, grazie a un sito rinnovato, camminiemiliaromagna.it, potranno fare non solo turismo slow, ma anche d'esperienza, che è uno dei punti di forza della regione. Sul web si potranno trovare tutte le informazioni di ogni cammino, compresi i siti di interesse sul tracciato dall'arte all'enogastronomia, oltre alle indicazioni su dove dormire e mangiare, un lavoro che è entrato nell'Atlante nazionale dei cammini del MIBACT. Quando si parla di valorizzare i cammini e i percorsi, significa valorizzare la cultura, l'arte, la gastronomia, il paesaggio che viene attraversato da queste vie 14 che attraversano tutta la nostra regione e che appunto sono un condensato, se ci pensiamo bene, delle grandi eccellenze del nostro territorio a partire dal food. Siamo convinti che questa forma di turismo sia sempre più importante perché, come ci dicono i mercati turistici, è sempre più richiesta questa forma di turismo, forse per compensare la criticità della corsa del nostro quotidiano. Attingendo proprio a questo patrimonio, noi riusciamo in qualche modo a rivivere dentro di noi esperienze e emozioni particolari di cui abbiamo bisogno e allora credo che sia proprio una bellissima iniziativa da parte dell'assessorato. La mia Romagna è una regione molto virtuosa in questo senso e infatti tantissimi cammini sono stati inseriti anche in Atalante nazionale, un Atalante digitale che chiaramente è implementabile, quindi c'è la possibilità di inserire cammini che magari attualmente non sono ancora maturi o comunque non rispettano tutti i requisiti che abbiamo individuato insieme anche alle regioni.